Ciao, sono Anna-Lisa. Ciao, sono Fabiana. Ciao, sono Domenico. Siamo di Tagli e Dettagli, di Cinizello Balsamo e via Garibaldi 58 e siamo pronti a ripartire. Buongiorno a tutti, sono Dino Villa, della Torrefazione Store 1966 di via Garibaldi 64 a Cinizello. Siamo pronti a ripartire. Ciao, siamo lo staff di Pandiviola Piazza Gransci Cinizello Balsamo e siamo pronti a ripartire. Ciao, sono Marco, del Caffè della Piazza Cinizello Balsamo Piazza Gransci e siamo pronti per ripartire. Buongiorno, sono Carolina. Buongiorno, sono Emanuela. Buongiorno, sono Rosanna. Gioelleria Ronchi Gioielli, Piazza Gransci Cinizello Balsamo. Siamo pronti a ripartire. Ciao a tutti, sono Giussi, titolare del Bardo Bacchi Italia, situato in Piazza Italia in oltre a Cinizello e siamo pronti per ripartire. Ciao, sono Maria. Ciao, sono Marco, del 3MA di Cinizello Balsamo via Piazza Carino numero 5 e siamo pronti a ripartire. Ciao, da Giacomo Trattoria per Bene, via Dante 9, Cinizello Balsamo, siamo pronti per ripartire. Sono Mara di Maracconciatura, di via Libertà 108, Cinizello Balsamo, siamo pronti a ripartire. Ciao, sono Luigi di Figaro 3000, via Dante 20, Cinizello Balsamo. Siamo pronti a ripartire. Ciao, noi siamo lo staff del Giulep, via Carolina Romani al 2 a Bresso e siamo pronti a ripartire. Siamo pronti a ripartire. Grazie.